Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della Dvaita Vedanta, della non-dualità. In tutte le tradizioni spirituali ritroviamo un termine che può far nascere dei fraintentimenti. In questo termine la parola utilizzata è tu sei l'osservatore, osservatore. Facciamo un po' di chiarezza. Osservatore è appunto un termine che viene indicato a livello, possiamo dire, pedagogico, didattico, per far nascere l'intuizione e anche l'evidenza che non siamo un pensiero, non siamo i pensieri, non siamo un pensiero, non possiamo essere un pensiero, non possiamo essere una sensazione, una percezione, o addirittura il corpo, in quanto questi elementi non sono stabili, non sono duraturi, appaiono e scompaiono, sono elementi di percezione, oggetti di percezione, di cui siamo consapevoli. Infatti, nota, indaga, quando un pensiero passa, tu non vai via, tu in quanto coscienza, essere cosciente, rimani, non vai via insieme al pensiero. Te la riformula anche diversamente. Quanto il pensiero passa, cos'è che rimane? Il corpo, per esempio, nel sonno profondo, non abbiamo coscienza del corpo. Ma non solo, anche durante il giorno, non sempre, anzi, quasi sempre, non abbiamo coscienza del corpo. È un'illusione quella della linearità, che ci dice che il corpo c'è sempre, per esempio, o che la mente c'è sempre, i pensieri ci sono sempre. Quando, per esempio, siamo assolutamente presi da un'attività, anche banale, faccio un esempio, quando guardiamo, per esempio, la tv, siamo così presi dal film che stiamo guardando, non ci ricordiamo di avere un corpo. In quel momento non c'è letteralmente il corpo, così come, appunto, nello stato di sonno profondo. Quindi, la parola osservatore viene usata come stratagemma per far giungere l'intuizione che noi non siamo un pensiero, un oggetto di percezione, quindi un corpo, una sensazione, quindi noi non siamo qualcosa che appare e scompare. Ma, ben vedere, in ultima analisi, sebbene questo termine sia molto utile, non a caso tutte le tradizioni spirituali lo usano, ma appunto come stratagemma, perché, in ultima analisi, scendendo dal livello più profondo di indagine, più reale, possiamo dire che non c'è nessun osservatore. non c'è nessun osservatore separato, non c'è chi osserva qualcosa di separato, e quindi tutto è coscienza. Tutto è fatto di coscienza, tutto è coscienza che apparentemente si modula, apparentemente prende una forma, pur rimanendo sempre coscienza. È quello che nel buddismo, per esempio, dicono con la frase la forma è vuoto, il vuoto è forma. Quindi non c'è un osservatore separato da una cosa distante da lui. Quello è un termine, uno stratagemma importantissimo per far risvegliare una certa comprensione, spezzare l'identificazione con l'illusione di essere un corpo, i pensieri. Ma in ultima analisi, questa cosa non c'è e comprendiamo che tutto tutto è coscienza. e questa comprensione è la pace che cerchiamo. Perché in questa intimità, nel sentire che tutto coscienza, oltre l'apparente ingannevole e illusoria sensazione di separazione, noi sentiamo pace. è una pace incausata, cioè che non la dà qualcosa. Non è la pace che immagina la mente, assenza di condizioni, assenza di problemi, non è quella roba lì. È una pace incausata, perché tu sei questa coscienza e ti senti a casa, tutto è te. questa comprensione è ciò che cerchiamo, perché quello che cerchiamo è il ricordo, possiamo dire, della nostra vera natura. questa comprensione è pace perché ci mostra che la corda che pensavamo fosse un serpente in realtà non è un serpente. Tutto è coscienza. Buon cammino.